Buonasera a tutti e bentrovati al Tg8. I 18 anni, accompagnati dai professori Roberta Franchi e Francesco Mammarella, sono stati i protagonisti della seconda fase del progetto PON, intitolato L'angolino in stampa, che ha permesso loro di visitare una redazione giornalistica e realizzare un notiziario. L'amministrazione comunale intanto predispone una viabilità alternativa. Ascoltiamo il servizio di Maria Teresa De Santis. Grazie a questo progetto del PON, il programma operativo nazionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, è stato infatti fondato il giornale L'angolino, diretto dalla professoressa Roberta Franchi, che ha ricevuto vari riconoscimenti ed è stato anche oggetto di un reportage da parte dei canali social del Ministero dell'Istruzione durante il periodo della pandemia, come strumento di socializzazione e resilienza che ha contribuito a mantenere unita la comunità scolastica angolana. Lo scorso anno, l'angolino ha vinto anche il primo premio nazionale al concorso 10 febbraio, giorno del ricordo, ed è stato premiato a Palazzo Madama alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. C'è una bella differenza tra il vedere sempre un certo canale tv e poi venire effettivamente dove tutto viene prodotto. Cosa si prova? Beh, è stato bellissimo venire nel posto in cui in futuro lavorerò sicuramente. E quindi è stato molto bello, molto interessante. Ringraziamo tutti quelli che hanno concesso questa grandissima opportunità. Sentiamo il servizio di Gaia Reggimenti. La prima fase del progetto, che si è svolta la scorsa settimana, ha consentito agli studenti angolani di vestire i panni degli inviati speciali, con interviste ai imprenditori del territorio vestino, che hanno raccontato ai giovani giornalisti per un giorno il loro impegno in ambito culturale, imprenditoriale e artistico, in termini di sostenibilità ed economia circolare. Dai fondi sanitari all'applicazione dell'equo compenso per gli incarichi. Il Comune di Giulianova ha ottenuto anche per quest'anno la bandiera blu. All'Aquila l'inaugurazione della panchina blu dedicata all'Europa. Sentiamo il servizio di Manuel D'Alessandro. Ieri, infine, la visita a Rete 8. Disinibiti ed entusiasti, i ragazzi si sono avvicendati davanti alla telecamera alla conduzione del Tg8, lanciando i servizi dei loro compagni. Per qualcuno, un piccolo sogno che si è avverato. Per qualcun altro, magari, l'inizio di una lunga carriera, penna alla mano, costellata di successi giornalistici. Il Tg8 termina qui. L'agurio per tutti e di un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Grazie a tutti.